Il testo del professore Guaragnella si presta ad una lettura articolata, sobria, e nello stesso tempo c'è un impegno scientifico molto forte. Il Novecento nella complessità viene attraversato attraverso alcuni autori che sono diventati sono riferimento all'interno della letteratura contemporanea. E questo ricercare nella letteratura contemporanea il riso, il sorriso, la malinconia, non è altro che un penetrare in quel sottosolo della memoria in termini dostoieschiani che portano come punto di riflessione, credo, la profondità di un linguaggio che è un linguaggio reso tale dal senso del tragico. In questo libro specifico, nel quale si parla del riso, della malinconia, del sorriso, mi sembra che ci sia una teatralità forte, come se all'interno dovessimo vivere la scena, il retroscena e la ribalta. D'altronde si parte da Pirandello, si arriva a De Roberto con i vicere, il primo saggio su Pirandello è abbastanza ampio e ci fa capire come Pirandello non è stato soltanto l'uomo di teatro, il drammaturgo, ma un intellettuale all'interno di una dimensione dialettica, qual'era la cultura tra fino ottocento e novecento e qui un ruolo specifico ha il senso del tragico che c'è in Pirandello ma che viene poi mutuata anche dalla figura e delle opere zaratustriane di Nice e credo che il legame con Nice abbia ha influenzato moltissimo la ricerca di Guaragnella. Perché? si avverte in questo studio di Pirandello ma si avverte anche nell'ironia tragica di Palazzeschi, si avverte soprattutto in Ugaretti. I saggi che sono capisaldi di questo lavoro credo che tocchino tre elementi fondamentali. Appunto Pirandello, l'aspetto forte di ironia in Palazzeschi e il senso appunto della terra promessa che diventa terra del deserto in Giuseppe Ungaretti. All'interno di questo contesto è chiaro che ci sono poi interpretazioni e attraversamenti come dicevo poco fa su De Roberto, su Vittorini, che diventa una chiave di lettura tra due passaggi epocali che sono passaggi anche dal punto di vista ideologico e alla fine il lavoro si chiude con una chiosa o delle cestellature che riguardano Italo Calvino e Pierpaolo Pasolini. Ma io sostengo che tutto questo ricercare all'interno di questo saggio, all'interno di questa ricerca, poggia le sue basi proprio sull'inizio di una letteratura che supera il positivismo, che supera il naturalismo e trova la sua decifrazione, la sua cifra vera e propria in quella forma di decadentismo che post decadente, ovvero non è il decadentismo scolastico ma è il decadentismo della solitudine degli uomini dell'inizio del novecento. E d'altronde, e lo abbiamo detto più volte, anche nel mio saggio ho sostenuto ciò, Pirandello ha una sua visione e una sua dimensione forte con il fu Mattia Pascal e si chiude con uno nessuno centomila questa sua visione. E posso guardare la punta su questi due elementi che sono elementi propedeutici per capire poi quello che sarà Ungaretti, anche se Ungaretti pubblicherà presto nel 1916 e già prima aveva dato una testimonianza importante, ma già con il porto sepolto e poi terminerà con il dolore, con la terra promessa, tutto un viaggio che è un viaggio poetico. Ma l'altra eccezionale importanza è che la discussione si pone partendo dalla narrativa, partendo dal teatro di Pirandello e chiudendosi con la poesia. Quindi c'è un attraversamento a tutto tondo tra narrativa e poesia e in mezzo ci sono quegli altri elementi ai quali ho fatto riferimento. Qual è l'interrogativo che ci si pone all'interno del novecento? Ci sono stati diversi novecento letterari? Ma io penso di sì perché ci è stato il novecento letterario che ha ereditato quel positivismo che poi si è trapuntato all'interno di un verismo e quindi di un realismo che è diventato poi neorealismo. Ma viene superato tutto questo da una letteratura che diventa mistero, che diventa indefinibile decifrazione dell'essere, che diventa esistenzialità, non esistenzialismo, che diventa essere, che diventa, per dirla con la Zambrano appunto, io ripeto spesso questa frase, metafisica dell'anima. E questa metafisica dell'anima è congiunta appunto tra Pirandello e Ungaretti. Ma quando il professore parla di Ungaretti del deserto in fondo è l'attraversamento del deserto che è la metafora dell'anima. Ma la metafora dell'anima nel Ungaretti, nel Ungaretti direi forte, non debole, non leggero, come descrive Italo Calvino, alla quale leggerezza io non mi affido e non affido nulla perché non ci credo, ma quella forza, quella fortezza che si trova in Ungaretti è il senso del dolore che non può essere leggerezza, ma che deve essere vissuto completamente all'interno della pagina della vita. E nel saggio di Guaragnella tutto questo è l'attraversamento di una dimensione che è una dimensione non soltanto esistenziale ma onirica. Ecco perché allora il sorriso, il riso, la malinconia. Credo che queste tre caratteristiche fanno il tutto, perché il riso e il sorriso sono l'ironia, ma la malinconia è la tragedia. E qui il gioco, l'ironia e la tragedia. Ritorna allora in questo incastro la figura di Nice, ritorna in questo incastro il così parlo Zaratustra, al di là del bene e del male. Ecco allora la lezione forte che poi noi ritroveremo nella poesia del Novecento, in quella poesia del Novecento, che ha fatto del senso del tragico il proprio vissuto. E questo saggio di Guaragnella è, a mio avviso, un punto di confronto, anche con scuole di lettura o con scuole di interpretazioni diverse, perché bisogna confrontarsi per cercare di capire. Il naturalismo che si confronta o si scontra con il senso del tragico diventa un tutt'uno all'interno di un viaggio trasversale del Novecento. E allora questo mi dà la dimensione, mi dà il senso di come questa letteratura italiana del Novecento poi trova all'interno di una cultura europea una sua dimensione più alta. D'altronde Guaragnella cita alcuni autori che sono autori non italiani. E tra questi io voglio nominare e sottolineare Kafka. La figura di Kafka non è centrale soltanto in Birandello, non è centrale soltanto in una cultura che è una cultura post-novecentesca, ma è centrale in quella poesia dell'enigma, in quella letteratura dell'assurdo, in quella letteratura appunto del toppio e della maschera. Tutto questo sta all'interno di un decadentismo delle anime, di un decadentismo dell'esistenza che trova la sua chiave di lettura appunto nella metafisica dell'anima. E allora si apre la discussione con questo saggio, con questo studio, all'interno di un novecento che a mio avviso è tutto da rileggere, è tutto da riscoprire, è tutto da ricontestualizzare. Credo che questo sia il dato pregnante di un significato poi che ci deve portare ad una interpretazione degli autori. Perché gli autori nascono all'interno di un contesto e le linee degli autori sono poi la dialettica, in fondo, di una letteratura che si serve del gioco tra vita e morte, tra vita e dialettica, tra concetto del tempo e concetto della memoria. E allora riso e sorriso sono appunto l'ironia e l'umorismo, la malinconia e la tragedia che trova nella nostalgia il concetto più significativo, più straordinario. Tutto questo è all'insegna di questa dimensione che è una dimensione in cui la letteratura diventa, a mio avviso, esistenza, diventa vita. Grazie.